Siamo assieme per Natale, è sempre festa, in casa PMR è sempre festa, fra un po' ci sarà un coniglio pasquale sul labbero di Natale Allora, una zucca, sempre sull'albero, con dentro il coniglio, sotto il coniglio, che farcisce il coniglio, un tacchino anche Benvenuti ragazzi a questa nuova puntata di AmarCard, nell'ultima puntata vi avevamo detto che ci saremmo tolti un dente Questa per noi è una puntata molto faticosa, forse la puntata più faticosa della rubrica fino ad ora Perché oggi vi portiamo un mazzo che abbiamo odiato profondamente Per me sarà sicuramente la più faticosa in assoluto Però, per dovere di cronaca, era giusto portarvi questo mazzo perché è stato un mazzo che ha segnato un punto importante nella storia dello standard Perché il mazzo che vi portiamo oggi, io penso di poter dire che sia il mazzo più sbagliato che c'è stato in standard in 30 anni quasi di Magic Sì, con le regole diciamo nuove, cioè senza andare a guardare gli early years di Magic dove non c'erano ancora delle regole ben definite Con le regole nuove sicuramente è stato un patema proprio Siamo nella stagione standard 2004, i blocchi che ci sono validi in formato sono l'ottava edizione Il blocco Mirrodin, la prima Mirrodin e Kamigawa che però non serviva Il mazzo che vi portiamo oggi ragazzi è il maledetto Affinity Purtroppo sì, purtroppo è arrivato il momento per noi di arrivare a questo scoglio A questo momento A questo scoglio che dovevamo per forza passare Arriva un giorno in cui un uomo deve fare quello che un uomo deve fare Prendersi le sue responsabilità Abbiamo voluto aprire questa rubrica Dobbiamo prenderci queste responsabilità La notte è molto più buia un attimo prima dell'alba e questa è la notte Questa è la notte di Magic Andiamo verso l'alba, lungo questo mare di buio Mamma mia, ce la stiamo memando Ce la stiamo memando vicino Però, a parte gli scherzi, non è soltanto una questione di sentimento personale, soggettivo Che abbiamo avuto noi nei confronti di questo mazzo Ma anche da un punto di vista proprio storico Vedremo poi durante la presentazione di questo mazzo La Wizard dovette proprio intervenire pesantemente No, ma è un mazzo che comunque Gli spuggi di mano una situazione Per quanto riguarda l'alora è un mazzo dei record Quindi noi lo facciamo soprattutto per quello Perché per quello che rappresenta Ci sono delle cose sulle quali non è mai stato battuto E quindi è una pietra migliare della storia di Magic Verissimo Non c'è niente da dire Su questo non si può Poi l'odio profondo Non si può assolutamente Nei miei confronti e di tanti altri Nei confronti di questo mazzo Vabbè, non è da nascondere Ma per questo odiare non vuol dire svalutare Il valore del mazzo esiste Per forza di cose Perché è imbattibile Allora, prendiamo in analisi i Worlds del 2004 Con un nome di una ridondanza spaventosa Un nome a caso Un giovanissimo Gabriel Nassif Che qua lo vedete qui In Amarcard Non riusciamo a prendere un autopotto Senza imbatterci in Nassif e in Damo da Rosa Vabbè Forse perché Ecco, continuano tuttora Quindi non è che Vabbè, comunque il campione fu Nui Giten Bravissimo giocatore Un ragazzino di quegli anni Che guarda, ce lo prendiamo qua Sbarbissimo Sbarbississimo Che tra l'altro vince con un altro mazzo Però nel senso Prendiamo questo torneo Perché è uno dei più importanti di quegli anni In cui il nostro amatissimo Affinity Si qualificò Cioè, era presente nel bracket Era presente in quattro Anzi, lo prendiamo direttamente qui Era presente in quattro mazzi diversi In Eo Packet Spero di averlo pronunciato bene In Cornisen In Murray Evans E basta direi Sì, esatto In tre Poi c'era Nassif Che si qualificò con un VCloud Post Astra Slide vince Altro mazzo terribile Però comunque Affinity arrivò secondo Si qualificò secondo Nei Worlds di quell'anno Era presente in tre barra quattro liste Adesso in questo che cosa si giocava Non mi ricordo neanche No, no, questo era con l'Eternal Dragon Era presente in tre liste diverse E Come al solito Fece il disastro Anche in quei Worlds Gli dedicarono un mazzo Fatto di promo Card Con il Bordo Gold Con la firma su ogni carta Del campione Dei Worlds Con la lista Tutte carte da collezione Queste qua E adesso andiamo a vedere Una per una Le carte che accompagnavano Questo mazzo Allora In questo Worlds Affinity Era presente in tre liste Su Quattro tipologici di mazzi diversi Quattro barra cinque Il formato in generale Di Pro Tour GP Tornei normali Era infestato di Affinity Tutti giocavano O Affinity O qualcosa che potesse In un qualche modo Abbarbicarsi contro Affinity Allora Le carte sono quelle Cioè Non si sbaglia Sentite la pesantezza Nell'andare Ad affrontare la deck list Questa era una deck list Fatta di queste carte Non c'erano differenze Ci sono delle piccolissime differenze Dopo andremo a nominare Delle gas star E poi dopo andremo a fare Un ragionamento Sulle carte Che Che erano state scartate O incluse In un secondo momento Allora L'anno che stiamo analizzando Era un anno In cui Affinity Era già presente Da Da un'intera stagione Nel senso che Affinity Entrò in standard Assieme Ad Assalto Ad un slot E poi dopo Rimase in standard Quando uscì Kamigawa Ci furono dei cambiamenti Dal primo Dalla prima Lista Che dopo andremo a vedere quali E Poi dopo questa Diciamo Fu la lista Più giocata In assoluto La lista che stiamo analizzando Che è quella dell'anno Dopo 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 slot È stata quella più Più giocata Le carte In Affinity Si giocavano Tutte praticamente A parte Un'unica In 4x Che dopo andremo a vedere Un 4x Era formato appunto Da Arcbound Ravager Una delle poche rare C'erano poche rare Era fatto di comuni Non comuni Una delle poche rare Assieme Poi dopo vedremo A Chrome Mox Fu Arcbound Ravager Creatura 2 Uno 0x Con modulare 1 Modulare è un'abilità Propria Del ciclo Minrodin Che Praticamente Enunciava che La creatura Con modulare Entrava in gioco Con un numero di segnalini Più 1 più 1 Pari appunto Al livello di modulare Quindi era uno 0x Con un più 1 più 1 sopra Quindi fondamentalmente Un 1 1 E Quando moriva Spostava I suoi moduli Diciamo Spostava Il suo numero di segnalini Presente in quel momento Su un'altra creatura Versaglio Un'altra creatura Artefatto bersaglio Quindi praticamente Quando moriva Faceva ingrossare Un'altra creatura Se sacrificava Un'artefatto A velocità instant Perché questa abilità Si poteva attivare A velocità instant Guadagnava Più 1 più 1 Permanentemente Quindi O è sacrificato Un artefatto Lo facevate diventare 2 2 Barra 3 3 Barra 4 4 Barra 5 5 E poi se moriva lui Spostava Quell'equivalente numero Tipo Facciamo un esempio 5 5 Un più 5 più 5 Su un'altra creatura Una spina nel fianco Perché Poteva pomparsi Istantaneamente Scarificando pezzi Poteva Quando moriva Faceva diventare Un suo cuginetto Grande quanto lui Se non di più Doppio Heartbound Ravager Faceva trick Uno sopra l'altro Cioè Una creatura Che Diventava Insostenibile Se diventava grande E soprattutto Quando veniva rimossa Andava Ad ingrossare Equivalentemente Un'altra creatura Della sua Forza Della sua Costituzione Altro Heartbound Questa volta Comune Il Worker Costava uno solo Era identico Era identico Entrava anche lui Con un segnalino L'unica cosa È che Appunto Essendo Il compagnuccio Piccolo Non aveva L'abilità Di sacrificare Un artefatto Era comunque Un drop a uno Che aveva Un segnalino Sopra di esso Ecco Facciamo un esempio Se Arcbound Sacrificava Un worker Guadagnava Più uno Più uno Diventava Due due Il worker Avendo anch'esso Modulare Andava a pompare Arcbound Che diventava Più tre Più tre Per esempio No Più tre Più tre Diventava Tre tre Erano carte Che entravano In sinergia L'una con l'altra Quattro per Anche di questa Poi vediamo Una creatura Colorata Non era un artefatto Disciple of the vault Disciple of the vault In italiano Umano chierico Costava uno nero Era un 1-1 Ma non mi viene da ridere Perché il verro Adesso la tira fuori La descrive tutta Molto serioso Professionale Ma Il momento in cui È andato ad aprire Questa creatura Ha tirato due porconi Solo a rivederla Ragazzi Io cerco Cerco di controllarmi Per fare la figura Di quello che rimane Paccato Ma dentro di me Sto Questo contrasto Mi fa molto ridere Sto pensando Ne sto pensando Di tutti i colori Rivedendo Che ci sono delle bruttissime cose In questo mazzo Ma rimaniamo concentrati Rimaniamo 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 Proprio Nel gioco Non nel gioco Nel vostro cimitero Questo che cosa È un'abilità Un'abilità Quattro per Quattro per di questa carta Quattro per di ornitotteri Che l'andiamo a prendere Con la sua bella immagine Che non è in realtà Di Amy Webber È di Leonardo da Vinci Set Antiquities Set Antiquities È ristampata In prima edizione italiana A bordo nero Che in quegli anni Veniva giocata Con questa grafica Noi la conosciamo Con delle grafiche Più recenti Però comunque È una delle Creature Più vecchie di Magic Zero due A costo zero volante Che in questo mazzo Appunto Con modulare Poteva anch'esso Diventare Facilmente Un genio Mamoti O qualcosa di enorme Da un momento all'altro Era un attimo Che questo diventava Una belva Non era più Un simpatico Un simpatico Agliante Un simpatico Agliante Di cartone Di carta bagnata Di carta pesta E legno Ma diventava Una roba Che ti mandava a casa In un secondo Quattro per Questo era L'unico Due Barra Tre per Del Del mazzo Somber Overguard Era Semplicemente Giocata un po' Meno Perché costava Veramente molto Anche se Questo cinque Si tramutava Facilmente In un zero Anch'esso Aveva Finiti con gli artefatti E quindi Con quattro artefatti In gioco Era un Tre due A costo due Con cinque artefatti In gioco Era un Tre due A costo uno Sì a costo due Con cinque artefatti In gioco Era un Tre due Volante Era un Delver Era un Delver Era facile Giocarla Anche al primo Turno Quindi Facciamoci I conti Su queste Carte Queste erano Le creature Che venivano Giocate Dopo andremo A vedere Qualche Altra Creatura Che non Abbiamo Nominato Nella lista Nella lista Principale Noi prendiamo In analisi La lista Principale Dei Worlds Che fece Il secondo Posto Dei Worlds Poi c'era Qualche Piccola Variante C'erano Qualche Carte Che dopo Andremo A nominare Comunque Le cinque Carte Giocabili Erano Queste 4 8 12 16 20 22 Creature Andiamo Al parco Spell Ora Prima Spell Botto Enorme Sharp Blast Uno Rosso Uno In colore Come costo Addizionale Sacrifici Si Bisognava Scegliere Un artefatto Da sacrificare Questa Simpatica Spell Rossa Faceva 5 Danni A Qualsiasi Target Era Un Botto Enorme Ad Un Costo Ridottissimo Il Goblin Grenade Degli Artefatti Il Però Si Era uno Schiaffone Faceva 5 Danni Sacrificando Un artefatto E senza Nessun costo Di Man Aggiuntivo Cioè Sacrificavate Un artefatto Prima Prendiamo A pensare Gli artefatti Che abbiamo Appena Visto Quindi Sacrificavi Un Arc Bound Che Spostava I Segnalini Vomita Tutti Gli artefatti Che avevi Sull'arc Bound L'arc Bound Si Potenziava Lo Sacrificavi Con Sharpen Faceva 5 Danni Tutti I segnali Di Arc Bound Venivano Spostati Su Ornitottero Ornitottero Era Evasivo Volava Faceva 10 Danni Intanto Quindi Facevate 25 Danni Notturno Terribile Passiamo Oltre Un pescotto Un peschino L'unico peschino Del mazzo Uno dei pochi Peschini Del mazzo Southcast Strega 5 Che schifo Strega 5 Anch'essa Con Affinity From Artifact A uno Praticamente Vi faceva Pescare Due carte Si Era Quasi Sempre A uno Southcast Si Erano Tutte Le carte Che vedete Che andiamo Ad analizzare Con Affinity From Artifact Anche se Costavano Tanto Voi Dovete Immaginarvi Che venissero Pagate Con il Casting Cost Più Basso In Assoluto E cioè Togliendo Tutto Il Manacolorato Dal Casting Cost E La Spell Perché Gli Artefatti Ce li Avevate Sempre In Gioco Quindi Taut Costava Effettivamente Uno Somber Overguard Costava Effettivamente Uno Frog Mite Costava Effettivamente Zero A A uno Per scavare Due Carte Considerato Che Questo Era Un Mazzo Che Si Svuotava La Ma La Mano Era Facile Giocare Tutte Le Spell Primo Barra Secondo Turno Quindi Non Avevate Più Niente In Mano Anche Se Il Borde Era Apparecchiato E Questa Era Una Carta Che Vi Dava Due Carte In Più Che Erano Solitamente Sempre Utili Tutte Le Carte Di Questo Massero Utili Anche Le Terre Andremo A Vedere Perché Fra Poco Comunque Oltre a Questa C'era Chrome Mox Accelerino Artefatto Veniva Imprintato Con Una Carta Non Artefatto Non Terra Quindi Poteva Venire Imprintato Ah Giusto Imprint Era Un'altra Meccanica Di Mirrodin Che Praticamente Funzionava Che Imprint Era Un'abilità Che Vi Faceva Eliminare Una Carta Dalla Vostra Mano E Veniva Diciamo Messa Sotto La Carta Con Imprint E La Carta Con Imprint Attivava La Sua Abilità In Base Alla Carta Che C'era Che Era Stata Imprintata Con Con La Sua Abilità Quindi Cattro Isocrono E Stata Un'altra Celebre Carta Con L'abilità Imprint Isocrono Chapter Lo Imprintavate Con Un Istantaneo E Lui Replicava L'abilità Di Quello Istantaneo Tappando Due Esatto Chrome Mox Funzionava La Stessa Maniera Equivalentemente Imprintavate Una Carta Di Un Colore Quindi Né Artefatto Né Terra E Vi Dava Mana Del Colore Della Carta Che Avevate Imprintato Quindi Alla luce Della lista Che si giocava Chrome Mox Come target Di Imprint Aveva Come Possibilità Tausas Che era Blu Sharpener Blast Che era Rossa Vabbè Somber Che era Blu E Discipro De Volt Che era Nero Il Mazzo Era Grixis Era Fondamentalmente Nero Blu E Rosso Non c'erano Ancora Le Diciture Grixis Varie Bunt Perché Non esistevano Ancora Le Fazioni Però Il Mazzo Era Di Questi Tre Colori Poteva Anche Tranquillamente Essere Giocata Chrome Mox Cioè Non era Un obbligo Quella Di Imprint Poteva Anche Essere Giocata Come Artefatto A zero Semplicemente Per fare In modo Di Attivare I vari Affinity From Artifact Oppure Di Sacrificarlo Su Arcbound Ravager Cioè Chrome Mox Non era Importante Che Se lo Vedevate In Prima Mano Era Importante Perché Vi dava Un Uteriore Boost Alla Vostra Curva Del Mano Ma Non Era Obbligatorio Imprintarlo Poteva Anche Servire Semplicemente Come Fixer Per Abbassare I costi Di Affinity E Per Sacrificare Sui Varie Artefatti Anche Appunto Sharp Potevate Giocare Chrome Mox Senza Sacrificare Nessuna Carta Poi Con Sharp Sacrificare Chrome Mox Per Poi Prendiamo Prima Welding Jar Che è un altro Artefatto a zero Prima di mandare giù Un magone più pesante Prendiamo Welding Jar Altro Artefatto a zero Se Sacrificavate Welding Jar Rigeneravate Target Artefact Vi salvava Un pezzo Sul Board In più Poteva Far Triggerare Abilità Di Ship Of The Vault Salvare Un pezzo Importante Tipo Arc Bound Ravager O Un Ornithottero Già Potenziato Aveva Tantissime Attivazioni Utili E in più Era un altro Artefatto Che costava Zero Torniamo Indietro Nella lista E vediamo Che assieme A Welding Jar E a Chrome Mox Era uno Dei tanti Artefatti Che costava Zero Perché Gli artefatti Che costavano Zero Erano Molto Importanti Ed erano Appunto Welding Chrome Ornithottero E Frogmite Che fondamentalmente Costava zero Anche questa Erano Ben 16 Carte Che costavano Zero mana Per essere Castate Tantissime Erano Veramente Tantissime La curva Di questo Mazzo Era Bassissima Se ne andiamo A mettere In un In un Calcolatore Di statistiche Viene alzata Solo perché Perché Carte Come Somber Over Guarda Venne calcolata Come carta Che costa Sei Ma in realtà Sono sei Fittissi Cioè tutto il Masso costava Zero O uno L'unica Eccezione Era fondamentalmente Sharpner Blaster L'unica Eccezione Del masso Era Sharpner Blaster Perché Appunto Sovere costava Uno E Cosa dicevamo Anche Tauss Costava Uno Quindi L'unica Eccezione Del masso Era Sharpner Blaster E appunto Quella che stiamo Per prendere Ora Che era Cranial Plating Che costava Due Odio Odio profondo Questa Era La vera Closure Una Una Delle Una Delle Closure Però Questa Era Una Pacca Esagerata Del Del Mazso Appunto Chi l'ha giocata Se la ricorda Si La sogna Ancora Era un Equipment In Mirrodin Uscia Anche La meccanica Equipment Perché Assieme a Imprint Assieme a Affinity From Artifact Assieme a Modulare L'altra Meccanica Era Equipment Per la Prima Volta Si Videro Gli Equip Questa In In Particolare Era Un Equip Che Dava Più 1 Più 0 Però Un E Con Doppio Nero Potevate Spostarla Quindi Fondamentalmente Potevate Equiparla Instant Spostandola Sui bloc Sugli Attaccanti A vostro Piacimento Cioè io Adesso Esagerata Questa è L'ultima Spella Del Mazso Le altre Sono le Terre Andremo A Nominare Io Adesso Vorrei Farvi Riflettere Sul Fatto Di Quanto Tutte Queste Carte Sinergizzino Tra Loro Cioè Voi Vi Vuotavate La Mano Di Primo Giocando Terra Chrome Ornitottero Arc Bound Fragment Si attivava Zero C'era Già Magari Questo Riuscivate A castare Questo Con Una Terra Del Colore Adeguato Con Chrome Mox Poi Iniziavate Direttamente A Sacrificare Tutto Su Arc Bound Questo Intanto Iniziava A fare Danni Arc Bound Già Poteva Attaccare Il Turno Successivo Che Era Un 6 6 C'era Disastroso Ripeto Era Un Metafatto Di Mirror Quindi Disciple Of The Vault Praticamente Poteva Uccidervi O Uccidere L'avversario Al Secondo Turno Sì Sì Questo Era un Mazza Che Tranquillamente Poteva Chiudere Di Secondo Cioè V Sì Poteva Tranquillamente Chiudere Di Secondo Cioè Un Discipolo Devote Doppio Discipolo Devote Sul Sul Gioco In Campo Fa Il Doppio Dei Danni Perché Ognuno Di Essi Fa Danno Cioè Mamma Mia Se Anche L'avversario Aveva La Stessa Meccanica Sacrificava Lui Vi Uccidevate Vicendo Faceva Delle Cose Terribili In Più Appunto Crime Unplating Si Spostava In Base Alle Vostre Esigenze Poteva Auto Equiparsi Su Una Creatura Che Non Veniva Considerata Come Letale L'Arc Bound Ravager Poteva Sacrificarsi E Andare A Pomparne Un'altra La Placca Che Desse Dei Più 8 Più 10 Era Veramente Un attimo Più Zero No Più 8 Barra Più 10 Ah Sì 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 Poi Provate A Pensare La Possibilità Di Spostare Instant Un Equipo Del Genere Che porta Sulla Groppa Un Più 8 Più Zero In Risposta Ai blocchi Dell'avversario Una Carta Comune Questa Era Una Carta Comune Cranial Plating Pensiamo alla Nostra Buona Ambercliffe Che è Mitica Cranial Plating Con questa Roba Che faceva Era Una Comune Terribile La Prima Considerazione Che si Potrebbe Fare Era Che Questa Carta Non Abita Evasive Cioè Non Ha Trampol Non Ha Non Da Volare Però Il Punto È Che Tutte Le Vostre Creature Potevano Essere Gestite In Modo Da Diventare Letali Cioè Arcbound In Gioco Dava La Possibilità Di Autosacrificarsi Per Pompare Un'altra Cosa Attaccavate Con Un Ornithottero Volante Che È Uno Zero Due Un Arcbound Che È Un Uno Uno Un Arcbound Che È Già Magari Un Tre Tre Un Assomber Che È Un Tre Due La Crania Si Sposta Sul Blocco Sulla Creatura Non Bloccata Viene Triggerata L'abilità Di Modulare Che Sposta Cinque Segnalini Crania Ne Da Altri Pochi Perché Fondamentalmente Cioè Queste E queste Funzionavano Una a discapito Dell'altra Quindi O Diventava Qualcosa Di enorme Una creatura Con Crania Plating E tutti I pezzi Sul Board Oppure Magari Faceva Quei Cinque Danni E Poi Veniva Sacrificato Tutto Per fare Gli Altri Danni Col Discepolo Oppure Veniva Sacrificato Tutto Per fare I Danni Col Discepolo E Fare In modo Che Arcbound Diventasse Enorme E facesse Dieci Danni O Spostasse Tutti I segnalini Su qualcosa D'altro Cioè Erano Tutte Un Incastro Che Sembra Difficile Comprensione Ma In realtà Sinergizzava In una Maniera Che Lasciava Non Non Lasciava Niente 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 Al Caso Non Lasciava Niente Al Caso E Non Lasciava Neanche Possibilità Non Lasciava Possibilità Perché Tu Potevi Spostare La Portata Della Minaccia Esatto Questa Faceva Cinque Danie Una Volta Era Quella Poi La Cosa Forte Di Questo Mazzo Innanzitutto La Velocità Ma La Possibilità Con Le Sinergie Di Poter Spostare La Minaccia Seconda Dei Blocchi E Delle Risposte Che Metteva L'avversario E Soprattutto Nei Mirror Era Eccessivamente Veloce Discipro Devolt Faceva Danno Anche Per Le Allora Le carte Che Non Abbiamo Ancora Annunciato Sono Le Terre Perché Ricordiamo Anche Le Terre Erano Artefatti Quindi Le Due Allora Prendiamo Prima Quelle Colorate Dai C'erano Cinque Terre Artefatto Che Davano Mana Colorato Si Giocarono Tutte Però Quelle Che Si Giocarono Soprattutto In Questo Mazzo Erano Le Tre Che Davano Colorato Che Vi Serviva Cioè La Great Fornace Che Dava Mana Come Una Montagna Seed Of The Synod Che Era L'equivalente Dell'Isola E Vot Of Whisper Che Era Equivalente Della Palude Si Giocavano In 4 Per Si Giocavano 12 Terre In Più Per Arrivare A 20 Si Giocavano 4 Glimmer Void Che Era Praticamente Una Terra Che Ti Dava Mana Di Qualsiasi Colore Ma Non Era Una Terra Artefatto Era L'unica Terra Non Artefatto Che Vi Dava Mana Del Colore Che Volevate Ma La Dovevate Sacrificare Se Non C'era Un Artefatto In Gioco E Questo L'unico Problema Di Glimmer Void Era Che Non Potevate Permettevi Di Tenere Una Mano Con Doppio Glimmer Void Perché Se No A Meno Che Non Rischiaste Di Apparecchiarvi Rischiare Che L'avversario Ve lo Rimuovesse E Quindi Avreste Dovuto Poi Sacrificare Glimmer Void Cioè Rischiare Giocare Con Dopo Glimmer Void Però Se Non Altro Fixava Per Ogni Colore A Vostra Disposizione E Poi Blink Mot Nexus Che Non È Una Terra Artefatto Ma Diventa Un Artefatto Appunto Diventa Un Artefatto Volante E Pompa Un Altro In gioco Anche Questo Una Spina In Fianco Come La Mishra Che È Appunto È Una Mishra Volante Non È 2-2 Ma Vola È Esattamente Equivalente Alla Mishra Factory Però È Un 1-1 Volante Anche Questo Diventando Artefatto Poteva Acquisire I Bonus I Modulari Cioè Acquisive Modulari Quindi Un Arcbound Che Moriva Poteva Pompare Un Blink Mass Attivo E Così Anche L'altro L'altro Arcbound In realtà Io li chiamo Arcbound E sono due Con nomi Diversi Uno è Ravager E Uno è Worker Quando Questa Terra Attivata Come Creatura Ritornava Terra Manteneva I Segnalini Quindi Diventava Fondamentalmente Una Creatura Che Diventava Evasiva Alle Sorseri Perché Nel vostro Turno Cioè L'attivavate All'evenienza Se l'avversario Non aveva una risposta Ritornava Una Terra E quindi Poteva Salvare In certe situazioni Poteva salvarsi Cioè Rimaneva Rimaneva fuori Da Una Eventuale Era di Dio Perché Voi Ovviamente Non la Attivavate Non la Trasformavate Come Se era una Terra Non la Trasformavate Come Creatura Per Non farla Morire C'era Una Carta Che Avendo Appunto Questa Attivazione Era Era Veramente Importante Sull'impatto Del gioco Perché Perché Appunto Vi dava La possibilità Oltre ad Essere Un altro Volante Quindi Ad essere Un'altra Creatura Evasiva Siamo Onidottero Sombra Vi dava La possibilità Comunque Di Gestirla In maniera Da poterla Attivare Sia per Attaccare Che per Bloccare Nel momento Opportuno E non Lasciarla Sempre Sul Bordo Comunque Era un altro Rattifatto Quindi Se veniva Scarificato Poteva Essere Scarificato Su Arbound Poteva Faceva Danno Con Disceppolo Poteva Essere Scarificato Su Sharknel Cioè Poteva Fare Qualsiasi Cosa Anche Questa Strasinergica Anche Questa Esatto Allora La lista Era questa Non c'erano Sì E non c'erano Ma Nella Side Venivano Giocate Alcune Carte Alcune Praticamente La side Era solo Ed esclusivamente Impostata Nel Giocare Contro Mirror C'erano 3 Barra 4 A null Qua viene Nominato Come Interrupt Venne Ristampata Già Con La Dicitura Instant Di Mirror Adesso C'è La Ria Biam In Usager Ancora Interruzione Era Sì Sì In Usager Ancora Interruzione Un Counter Che Counter L'Artefatto Incantesimo Prendeva Entrambi I Target Più Forti E Più Importanti Di Tutto Il Formato Che Erano Appunto I Vari Artefatti Di Affinity E I Vari Incantesimi Di Astraslide E Cioè Appunto Astraslide E Gli Altri Incantesimi Che Lo Formavano Dopo Li Andiamo A Guardare Costava Solo Uno Fortissimo Poi Si Giocava Serum Vision Che Era Un Peschino L'unica Carta Diciamo Che Non Andava A Sinegizzare Esattamente Con Gli Artefatti Era Questa Perché Vi Dava La Possibilità Di Pescare Una Carta Vi Dava Il Giusto Boost Contro Certi Massi Vi Faceva Scraiare E Cioè Guardare Le Prime Due Carte E Scegliere Come Posizionarle Sopra O Sotto La Vostra Library E Quindi Era Una Carta Che Velocizzava Diciamo Il Vostro Mazzo Nel Caso Servisse Contro Determinati Matchup O Nel Caso Vi Foste Già Appunto Svotati La Mano E Aveste Bisogno Di Nuove Spell E Poi Appunto C'erano Sitting Song E Furnace Dragon Allora Furnace Dragon Carta Enorme Carta Costava Nove Triplo Rosso E Sei Mana Colorless Con Affinity From Artifact Costava Veramente Poco Era Un 5-5 Volante Che Quando Entrava In Gioco Rimuoveva Ogni Artefatto Dal Gioco Questa Veniva Giocata In 4 Per Assieme A 4 Per Sitting Song Per Fixare Il Mana Perché Avere Sei Mana Rosso Era Difficile Quindi Serviva Giocare Sitting Song Per Avere 5 Mana Rossi A 3 E Poter Castare Furnace Dragon Con Sitting Song E Magari La dico Proprio Per come Deve Essere Detta Chrome Mox Di Secondo Doppia Terra E Sitting Song Vi Faceva Castare Fornace Dragon Al Secondo Turno E Rimuoveva Tutti Gli Artefatti Questo Vuol Dire Che Contro Mirror Spazzava Il Board Entrambi Faceva Orologio Rimuoveva Tutte Le Spell Tutti Permanenti Dal Gioco E Si Portava Anche Via Le Terre In Mirror A Parte Blink Moth No Perché Alla Fino Sacrificavi Pure Sarebbe Stato Sacrificato Comunque Portava Via Tutto Portava Via Tutto L'unica Cosa Che Si Potevano Salvare E E Volendo La Somber Ma Potevano 5-5 E Rimaneva Lui In Campo Quindi L'avversario Come Unica Risposta Essendo Stato Completamente Sbordato Aveva Solo La Possibilità Di Ripartire Facendo Doppio Artefatto Sharknet Cioè Questo Lasciava Veramente Poco Spazio All'immaginazione Questo Era Un 5-5 Che Scendeva Spazzava Il Board E Rimaneva Sul Board Quindi Ecco I Mirror Si Risolvevano Di Discepolo Della Volta E Di Furnace Dragon Andiamo a Vedere Nella Lista Dei Mondiali La Lista Era 4 A Null 4 Furnace Dragon 4 Sitting Song E 3 Solo Un Vision Della serie Non so Cosa Mettere Nelle Ultime Tre Cate Per Arrivare A 15 Mettiamoci Tre Peschini Era un mazzo che non aveva bisogno di side contro nessuno Era un mazzo che appunto nell'ultima perché questa è la best list diciamo prima del prima del della purga che adesso andremo a dire andremo a spiegare Era un mazzo che side dava solo ed esclusivamente contro Mirror perché contro tutti gli altri mazzi stava già sopra di suo Sì Cioè il concetto era quello Questo mazzo non aveva problemi contro nessuno e si side dava contro Mirror Contro se stesso E si side dava contro se stesso Esatto Pensa Pensa Il power level di questo mazzo Si giocavano 4 counter E poi si giocavano 4 Furnace e 4 Sitting Song per avere 8 cose che potevano Cioè bisognava vedere Furnace Fondamentalmente era un mazzo che nel suo meta giocava senza side Lui side dava solo contro se stesso Sì giocava contro se stesso Contro gli altri non me ne frega niente No tanto vinco Chi se ne frega Allora Qua ci sono un paio di carte Adesso andiamo a prenderla subito Togliamoci sto dente Parliamo di Scarclamp Eccola qua L'odiatissima Scarclamp Non era nella lista perché era stata bannata Questa fu una delle carte che in standard vennero bannate Adesso andiamo a vedere Fu bannata Praticamente Quasi istantaneamente Febbraio-giugno ha fatto È uscita È di Darksteel no? Sì 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 Quindi uscì a febbraio A giugno venne bannata Sì no nel senso Cioè ho detto quasi istantaneamente nel senso tre mesi Nel Magic di allora Nel Magic di allora Non nel Magic di Arena Erano quasi un instabunne Eh sì Non c'è niente da dire È scappata È scappata Questa è scappata Tu mi dicevi prima Sì Che ci fu appunto Sì 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 La Wizard Scrisse Fece un Scrisse un comunicato Mi ricordo Dove si scusò con tutta la community dei giocatori di Magic Perché ammise che al momento del design Non si erano resi conto Che questa cosa che faceva questo artefatto Che per loro era poca cosa All'interno del meta era una roba sbroccata Artefatto a costo 1 un equipo Che si equipa 1 Che dice che la creatura equipata prende più 1 meno 1 Più 1 meno 1 E quando la creatura equipata muore Peschi 2 carte Altro disastro Questa faceva un avalio di vantaggio carte In È durata 3 mesi Venne bannata quasi immediatamente E ad oggi è ancora bannata in Guardavo prima Modern Legacy giusto? Quindi è bannata dappertutto È bannata dappertutto La puoi giocare solo in Legacy In commande Sì in commande School Clamp A parte uccidere le vostre creature per pescare Poteva essere messa come potenziamento Ma soprattutto Potevate metterla Per dire anche su una Frogmite Che sopravviveva Ma poi ve la sacrificate Ve la sacrificavate con l'Ark Bound Per poter fare dei danni con Discepolo Potenziare l'Ark Bound Pescare altre due carte Cioè in questo mazzo Due carte erano sempre utili Erano tantissime Anche se pescavate le terre Giocavate le terre Le sacrificavate Le terre facevano danno Potenziavano Ark Bound Entravano in sinergia anche le terre Ogni carta che pescavate Era comunque utile E poteva essere castata Fondamentalmente Se Diciamo Non pescavate solo terre Perché comunque Avevate il limite di giocare Comunque una terra per turno Sacrificavate School Clamp La creatura Sulla quale era Era messa Era equipata School Clamp Sacrificavate con la creatura Pescavate due Giocavate quello che avevate pescato Riattivavate School Clamp Per equiparla su un'altra creatura Sacrificavate anche quella creatura Pescavate altre due carte Giocavate due spell Che potevano essere giocate Lo facevate nuovamente Cioè con tre mana Questa faceva qualsiasi cosa Magari pescavate anche un altro Chrome Mox Vi sacrificavate una carta Che avevate pescato Che non potevate castare Tipo Somber Overguard Chrome Mox vi dava un mana blu Riequipavate su un'altra creatura La sacrificavate Pescavate altre due carte Altra Frogmite Altro Ornitocchio Era un attimo Che questa qua Vi faceva pescare Tranquillamente Otto carte Che avevate comunque La possibilità di giocare Perché erano tutte carte Che costavano zero Che avevate comunque La possibilità di sacrificare Perché I vari Vostri Massi Le varie vostre carte Vi davano la possibilità di sacrificarle Senza costi aggiuntivi Tipo con Arcbound Tipo giocare una Welding Un digiardo a sacrificare a caso Che vi davano la possibilità di fare danno Perché con discepolo ogni qual volta qualcosa moriva Faceva danno Cioè Otto carte Pescate Erano Sì Otto danni in più Un'esagerazione Cioè Era devastante Questa carta Devastante Sì Quindi Io ho detto È stata quasi install bannata Poi abbiamo visto bene le date Le date erano tre mesi È durata tre mesi Cioè Per l'epoca Nel 2004 Una carta che durava tre mesi Era come se non Non fosse stata giocata Sì Esatto Esatto È come Un equivalente di Sì Due settimane su arena Dieci giorni su arena Ma sì E che cosa è successo È successo che Quando hanno bannato Scatlap Hanno messo dentro Cranial Plating Scusate Ve ne diamo una meno forte Cranial Plating Che è lì Che cosa hanno detto Sono iniziate le prime perplessità Sì Nei confronti Cioè come adesso Hanno bannato oro Vabbè Chi se ne frega Metto dentro Lucky Clover Lucky Clover In Omnett Chi se ne frega Tanto che me ne faccio di oro Ecco Questo è stato un po' Un caso così È stata l'equivalente Hanno tolto questo E gli altri L'hanno messo dentro Cranial Plating Quindi Problema risolto? No No Per niente No vabbè Allora Allora Con quest Con Scatlamp Affinity Vinceva veramente Delle volte Vinceva veramente Di secondo Con l'altra Vinceva di secondo Solo Se vedevate Molto in fretta Di Scepolo Perché E giocavate contro Miro Ma magari Al terzo turno Ci si arrivava Ma era comunque Un Si era Un calvario Un calvario Cioè Con un mazzo Che si gioca Tutto a zero Rigiocare Sacrificare Giocare 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 Pesco due Pesco due Pesco due Pesco due Continuo In continuazione Senza costi riscontivi Voleva dire Veramente Chiudere la partita Immediatamente Sì 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 Quindi questa È stata bannata Ora nominiamo Un paio di carte Che vennero giocate Nelle varie fasi Di evoluzione Del mazzo E che vennero Spostate Più o meno Velocemente E più o meno Frequentemente O nelle side O fuori Dalla lista La prima di queste Fu Mirrenforcer Il nostro bel Robottone manga Bellissimo Come carta Come design Cioè bellissimo In realtà io odiavo Tutto ciò che non era Fantasy Quindi una roba Così robotica Non mi piaceva Però poi con gli anni La apprezzai Sì Con i confronti Del flavor È vero Mirro di nebo Un impatto Un po' così Perché portò dentro Questo stile Un po' star wars Per l'epoca Un po' manga Un po' Gundam In tanti In più ci fu Il cambio del frame Sì Ci fu anche Il cambio del frame Sì Si fu un momento Di nasi Che si storcevano Un po' Sì Assolutamente Ti do affiniti Voglio farmi Cambiare Praticamente Cambiarono In un attimo Cambiarono La skin Delle carte In più Fecero Un'espansione Fatta di artefatti In cui Praticamente Tutte le carte Erano cambiate Perché le vedevate Grigine Color ghiaccio Piuttosto che Marroni Come venivano Insolito Come venivano Viste prima Andiamo a prenderci Questo bello Cioè la skin Da così Passò A Così Cioè il cambio All'impatto Vedere dei belli artefatti Marronosi Terrosi Belli Belli pienotti Belli Che davano L'idea Di essere Di artefatto O di essere Veramente artefatto In quanto Fatto ad arte Divenne un po' Più Robottoso E cioè Fatto In catena di montaggio Molto acciaio Molto steel Fece storcere Il naso Però devo dire Che a distanza Di anni Questa Questa figura Mi è piaciuta Mi è entrata Un po' Di più Nel cuore Ma forse Perché l'ho odiata Talmente tanto All'inizio Che adesso Non posso fare Meno di Di dire Vabbè dai Te la meriti Te la meriti Te la meriti Un bel voto Poi mi fa molto Nausica Nella valle Nel vento Mi fa molto È vero E mi fa molto Miyazaki Fa molto Miyazaki Molto Miyazaki Conan Un po' Un po' Conan Conan Non è Non il Non il barbaro No Sì ecco Non il barbaro E neanche l'investigatore Sì Il super detective Non il super detective Il rusnone Conan il rusnone Quello con l'arpione Esatto Che l'arpione Che ama l'ana E tutto quanto Vabbè ok Miren Forse Si giocava Perché era un 4-4 Che fondamentale Lo pagavate molto facilmente 2-3 Molto grosso Però venne scartato Soprattutto quando poi dopo Vennero messe altre carte Miren Forse venne ritenuto Troppo lento Per dirti Il 4-4-3 era troppo lento Non schifo Poi allo stesso modo Miren Retriever Che faceva Recursion Dal cimitero Alla mano Venne giocato Inizialmente Perché era Molto forte Però venne scartato Perché Non era Costava troppo Anche questo Costava 2 Costava troppo Licenziato Licenziato Perché costava troppo Nella tipologia del mazzo Costava In cui costava tutto 0-1 E in cui Le uniche cose Che costavano 2 Erano 2 winning condition E cioè Cranial plating E sharp nel blast Erano le uniche 2 carte Che costavano 2 Miren Retriever Veniva considerato Come se costasse Troppo Quindi venne scartato Facilmente anche questo Poi Nominiamo Darksteel Citadel Che venne giocato Inizialmente Era molto forte Perché era una terra Artefatto Ed era indistruttibile Quindi Stava fuori Dai vari Artifact Mass removal O cose del genere Però poi dopo Venne anche questa Lasciata al caso Anche perché voi Nel vostro Modo di Intendere la partita Volevate comunque Sacrificare Gli artefatti Quindi di averne Uno indistruttibile Non ve ne facevate nulla In più Non dava mano Colorato Il problema Di affinity Era sempre Avere i colori giusti Al momento giusto Quindi Carta Pur essendo indistruttibile Terra artefatto Che però Dava mano Non colorato Venne giudicata Obsoleta Un disegno bellissimo Però Un disegno molto bello Stupendo Appunto Venne preferito Glimmerpost Era la torre d'avorio Venne preferito Glimmerpost Perché pur non essendo Artefatto Vi fixava il mano L'Electrostatic Bolt Molto presente Nella prima liste Perché Faceva Faceva removal Era molto presente Nelle prime liste Perché faceva removal Nelle side Però poi dopo Anche questa Venne accantonata Perché Venne impostata Nell'ottica Di essere Un removal Soprattutto Nei mirror Però poi dopo Il mirror Si trasformò In una corsa In una corsa Che vedeva Le carte forti Per primo E cioè Il drago Della fornace O il discepolo Della volta Quindi Chi se ne frega Che l'avversario Avesse delle carte Sul board L'importante È che ce le abbia Prima io O che io Per primo Arrivi a pescare Qualcosa Che mi fa vincere E non che mi fa Togliere una carta All'avversario Poi venne giocata Anche Lightning Rift Soprattutto Nella prima versione Appunto Perché Lightning Rift Era una carta Di un slot Era una carta Che si usava Inside Contro gli Asta Slide In modo che Quando Asta Slide Faceva ciclare Faceva Quando i cicli Facevano danno Voi potevate Comunque Fare danno All'avversario E voi con Affinity Facevate danno In mille altri modi Questo poteva Strappare facilmente 2 Barra 4 Barra 6 danni Diventava Importante Dava un'ulteriore Accelerata Nei Contro i cicli E poi dopo Un paio di carte Contro Gli artefatti Oxidize Che si giocava In 4 pera All'inizio Che distruggeva Un artefatto E non poteva Essere rigenerato E questa Proprio Veramente Una Markard Shatter Presta Distrugge Un artefatto A costo 2 Istantaneo Presa Da proprio Alpha Presa Alpha Venne Una carta Di Amy Webber Venne ripresa In tanti In tanti Disegni diversi Stampata un sacco Di volte In Tempest In Sesta In Settima In Mirrodin C'era questa Un po' brutta Però era una clan Plating Che veniva disfatta Quindi ci faceva piacere Vedere questa sorte Ci piaceva Qua questa figura Bellissima Comunque Non so Non mi ricordo Come si chiama Questa Ixalan Comunque Rivals of Ixalan Le carte Erano queste qui Cioè Non c'era altro Allora Nel meta Erano presente Anche pochissime Alte tipologie Di mazzo C'era un goblin Che provava A correre Più di affiniti C'era Astra Slide Che giocava Con la tipologia Ciclo E che era Praticamente Un Control Barra combo C'era We Cloudpost Portato da Nassif Che come al solito Porta dei controlloni Porta i mazzi facili Da ragionare Super control Con gli eternal Gli exalted Ah vero Questo formato qua I wars Vennero giocati Quando era ancora valida Quando era ancora valida Assalto E non quando c'era già Kamigawa Comunque Erano i mesi In cui era già Stato Ah si Praticamente Non cambiava Fondamentalmente quasi Non aveva Non aveva dato Nessun ingresso Non aveva Kamigawa Non spostò Affinity Entrò Entrò Veramente A meno Che in punta di piedi No Più che altro L'importante È ricordare Che carterra Cloudpost pure Cloudpost è la terra Che ti fa Ah certo 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 Perché ci furono Tre mesi Che per quanto Tre quattro mesi Che per quanto Fossero stati Lunghi Anche se Nell'ottica di Magic Tre mesi Sono veramente pochi Ci furono Dei tornei Dei tornei In cui erano Presente Le famose Liste di Skullclamp Affinity E erano tornei In cui Validi Tornei Importanti In cui però Era presente Questa carta Erano fatti Solo di Affinity E quindi Non le abbiamo Guardate Abbiamo parlato Di un Day Wars Perché erano Il torneo Più importante Dell'anno E perché Soprattutto C'era già La lista Diciamo Nuova Allora Abbiamo appena detto Affinity Ad Affinity Venne subito Tolto Skullclamp Perché se no Vinceva In continuazione Continuò Comunque A vincere In continuazione Era Un massimo Che correva troppo Che aveva troppe carte Che venivano Castate Gratis Che aveva Praticamente Tipo solo 8 drop A 2 Tutto il resto Costava 0 O al massimo 1 Venne ritenuto Troppo Forte Come Intero Design Della meccanica Di Affinity Cioè Le iterazioni Tra Modulare Affinità Con gli artefatti Vari sacrifici Di artefatti Potenziamenti Di artefatti Venne ritenuto Troppo Forte E Per la prima Volta In Magic Dopo Un bannettino In giugno Vennero Vennero Bannate Istantaneamente 10 carte In un colpo Solo Cioè Affinity Era Guardate Solo per esempio Questa è una schedula Dove ci sono Tutte Un po' Gli archetipi Da quando Uscì Affinity Affinity Dominò Mostruosamente Scomparse Tutti gli altri Mazzo Non vennero Create altre tipologie Non cambia nulla E a un certo punto Bannarono Praticamente Tutto il mazzo 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Carte Bannarono Considerato che Skullclamp Era già stata bannata Poi bannarono Tutte le terre In blocco Sì Tutte le terre Artefatti In blocco Tutte le terre Artefatti In blocco Quindi quella verde Adesso non abbiamo aperto Quelle verde Rimace solo la Blinkmoth Nexus Sì perché era una creatura Non artefatta Era una terra Che però non era Un'altra artefatta Venne bannata La City of Synod La Fornace La Vault E quella bianca E quella verde Che non ci ricordiamo Come si chiamano La Shenden E la verde Non mi ricordo Poi venne bannato La Guantanhauser La Cittadella di Axis Perché era indistruttibile E comunque dava molto fastidio Lo stesso Tree of Tales E il discepolo Della Volta Perché era Perché sì E il discepolo Della Volta Perché sì Perché era una carta Incommentabile Cioè Non ha nessun In questa meccanica Una roba che No Ma in qualsiasi meccanica Cioè è una carta Che è veramente Troppo forte Cioè fai un mazzo Solo di artefatti Che costano zero Trovi il modo Di sacrificarle tutti E lui In doppia copia Sacrifichi 10 Fa 20 danni Cioè Comunque siamo a raccontarvi In questa puntata Di Amarcard Un anno che fu Un po' triste Perché già Fu triste per tanti versi Questo cambio Del frame Che Mise un po' Scontenti tutti quanti Tutti La maggior parte Di giocatori di Magic Si sentirono un po' Come se fosse cambiata Radicalmente Un'epoca No? A cui erano affezionati In più Entrano meccaniche nuove Con questo design Che già Non mi fa tanto piacere Giocare Ed entra un mazzo Così Che si Incunia Con questa Prepotenza Di rompente Nel formato Questo anno Per il gioco di Magic Fu un momento Particolare Fu uno degli anni In cui ci furono Più lamentele Più Più persone Che smisero anche Di giocare Perché Erano più affezionate Al vecchio Magic Perché comunque Cambiare un frame Di un gioco Basato Sulla tipologia Diciamo Fantasy Metterci Trasformare Anche solo L'artefatto Marrone Terroso Magico Molto Daniel Sandragon In metalloso Iron Tipo manga Modello Gundam Modello Fantascienza Fece storcere Molti nasi In più Ci metti I robottoni In più C'è solo Una tipologia Di mazzo Basata Sui robottoni Che corrono A una velocità Luce Che ti fanno Giocare un turno Poi dopo Ripeto In torneo In torneo In torneo In torneo I round Duravano 45 minuti Cioè voi Spesso e volentieri Facevate una partita Tra 3 minuti Sì sì E poi eravate a spasso No era Eravate a spasso Senza fare niente Per un'ora Fece storcere Molto il naso Era antivalotta Per tante cose Sì Per il cambio Del flavor Per il cambio Delle meccaniche Per la tipologia Di meccaniche Che fu Sbagliata Clamorosamente Appunto Cioè un ban di 10 carte Non era mai stato visto Cioè bannarono Un massimo intero E ad oggi rimane Comunque l'unico Nella storia di Magic Ban più enorme Più grosso Esatto Una stagione di standard Con 9 10 carte bannate Sono 9 o 10 Sono Sono 9 Aspetta Sono Le 5 terre Artefatte Archbord Disciple of the Vault Darst & Siege Con lo scarpe Sono 10 Sì Dove Sì Voto The Whisperer 8 Ah no 9 9 9 con la Sì perché sopra C'è Skullclamp Esatto Quindi una stagione standard Con 9 carte bannate Fu l'unica volta Che si vide Nella storia del gioco Sì E appunto Affinity È diventato Il masso Del record Un masso Non diciamo Quell'anno Fu un anno Pieno di cambiamenti Di record In positivo In negativo Vogliamo rivedere un po' Ci sono stati cambiamenti Cambio di frame Cambio di meccaniche Cambio radicale Di concetto anche di grafiche Di magic Nuove abilità Formato completamente piatto Perché era assorbito Da un'unica tipologia di masso E cioè Affinity Se voi pensate anche solo A quello che vi ho appena raccontato Sul fatto che Affinity Aveva un side Fatto di 15 carte Che funzionavano Contro Affinity Per il resto Tutti gli altri massi Venivano bypassati Come se non resistessero Questo vi fa capire Quanto voleva dire Per un giocatore Andare ad affrontare Un ambiente torneistico E in tutto questo clima Cioè nella serie Non mi frega Di quello che giocano gli altri Io gioco Affinity E voglio vincere Senza sideboard Cioè Un masso senza sideboard Sì sì Potete andare senza sideboard E in tutto questo In questo momento buio Per rinfrescare Il formato Per rinfrescare il gioco Arrivò Kamigawa Uh Quindi Yeah Quindi Un momentaccio Un momentaccio Per il gioco di Magic Un abisso di Lamentele Quell'annetto o due lì Proprio brutti 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 Altre volte abbiamo Ci siamo autopresi Per il culo Dicendo Dicendo Che in Magic Ci sono sempre state Le lamentele Tuttora Viviamo Lamentele Su l'arena Viviamo Lamentele Su Magic Online Su qualsiasi cosa Carta troppo forte Cartano troppo Cartano troppo Vi assicuro Che quegli anni lì 2004-2005 Cioè Ci fu una serie Infinita Di scivoloni Che Costrinse Proprio i giocatori A farsi delle domande Sul fatto Se continuare a giocare o meno Perché comunque Cioè Poi dopo con Kamigawa Le carte sono troppo Non sono belle Arrivano i giapponesi È troppo orientale Eh ma che cosa vuol dire Gioco con i topic Gioco con le volpi E cosa sono gli spiriti E di qua Poi le carte Effettivamente Kamigawa Io amo il flavor di Kamigawa Amo la storia di Kamigawa Amo tutto quello che riguarda Quel tipo di concessione Dal punto di vista grafico In mitologia Ma effettivamente Le carte erano terribili Cioè Io Mi ricordo Gitte Perché è Gitte Ho capito però Non ho fatto una In 3-7 Cioè in 3-7 Non hanno fatto niente Poi va bene Mi piace C'è stata qualche bella cosa Anche io però Mi piace Mi piace Sì era molto carte da Fantamagic Gli stessi dragoni Kokush Belli samurai Tutto quello che vuoi Però è carte Non era bene Isamauro Ci sono state belle cose Però E comunque Kamigawa Dovete affrontare Il giocare In un formato In cui c'era finiti Ciao buona Con Kokush No con Isamaru Tutto quello Che è stato giocato Assieme a finiti Ha perso di valore Perché tante carte Di Kamigawa E qui lo dico Anche col seno di poi Tante carte Di Kamigawa E tante carte Di assalto Perché ripeto Mirodin È tra assalto Esatto È tra assalto Kamigawa Cioè Mirodin Ha rovinato Tre espansioni Perché la stessa Perché la stessa Mirodin Fu poco sfruttata Perché di Mirodin Si giocava solo a finiti Si giocava solo a finiti Quello che poteva essere giocato In assalto Con la rotazione Di Con la rotazione Di Di cosa c'era Di Invasion Perché anche Invasion Fu un'espansione Fortissima E assalto Venne giocata poco Perché le carte Di Invasion Erano fortissime Le carte Che potevano essere Sfruttate di assalto Non vennero giocate Perché entrò Mirodin Le carte Di Kamigawa Nei primi anni Non vennero giocate Perché continuava Ad esserci Mirodin Mirodin fu veramente Un Un momento buio Un momento buio Vero Ci si ricorda appunto Non tanto di assalto Ma quanto di Kamigawa Perché Kamigawa Come valore delle carte Fu molto Buffo Perlomeno buffo Perlomeno buffo Ah si Potevamo addirittura Prenderci la telecamera In questo momento Mentre parlavano di queste cose Però stavamo saltando Tra una Sì Tra una pagina e un'altra Abbiamo fatto vedere Un po' di date Un po' di Timeline Siamo rimasti Siamo rimasti Su quelle Su quelle pagine lì Siamo giunti Al momento dello spoilerino No ma adesso Prima dello spoilerino Voglio far riflettere Quelli che ci stanno guardando Tutte le volte Che vi lamentate Tutte le volte Che ci lamentiamo Perché non è che io lo dico a voi No è vero Ci lamentiamo anche noi Nonostante tutto ci lamentiamo Non voglio fare Il matusalero Il moralista del magic Sì 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 Una strada Quella roba lì Esatto E facevano dritti No allora Non è quello il concetto Non è quello il concetto Il concetto è Tutte le volte che ci lamentiamo Prendiamoci quei cinque secondi Per googlare Mirrodin E andare a vedere Cazzo sì Cioè ci stiamo lamentando ora Pensavo Dicessi una cosa più generica Tipo per andare a vedere I mazzi del passato Ma proprio per andare a vedere Mirrodin Tirate fuori Mirrodin Guardate state lì Vi prendete Un po' come contare Da uno a dieci Andate lì Vi faccio Fate dieci secondi davanti A una lista di affiniti E poi vi dite Ma Ma sai che Sai che Alla fine Puro e triste Lo sai che insomma Da Cioè Sai che te feri Ma boh Fa un po' schifo Vabbè Ma te fa schifo lo stesso Però insomma Oh Poteva anche andarci peggio Ma Boh occo Di po' al terzo Costa un casino Guardate Vi fate Dieci secondi davanti Fermi così Come degli autoni Portatevi una foto Una foto Della deck Di affiniti E noi abbiamo parlato Abbiamo parlato Del povero Del povero Parliamo sempre Di Nassif Di New Eater Però in realtà È stato Eo Paquette Che vinse Arrivò al secondo posto Con Affiniti Comunque Fu lui l'odiato E guardatevi La lista Il mazzo Bordo oro Con la lista E le firme Di Eo Paquette Guardate le carte Di Affiniti E dite Sai che insomma Va poi anche bene Se mi hanno messo Adesso hanno messo Una carta Cosa hanno messo Di forte Ma sì Bisogna ancora vedere Valky Valky Spacca Avete appena Giocato contro Un mono rosso Vi siete presi Appena una legnata Di Embercliffe Nella faccia Che siete Catapultati Nella camera Di fianco Siete lì Che No Embercliffe È troppo forte Andate Andate a guardare Cranialplating Cinque secondi Di cranialplating Di cranialplating E vi passa la paura Vi passa l'ansia Sai che Embercliffe Non è che fa poi così tanti danni E' anche brutta Il disegno è Di poi minacciosa Noi lo stiamo Prendendo a ridere Però fatelo davvero No veramente Provate Un mento Fate come Rocky aveva la fotina Di Van Drago Voi tenetevi La build di Affini Tutte le volte Potete fare Dei paragoni facili Guardate Embercliffe E poi vi guardate Cranial E dite Ma sai che Ma è peggiore Continua a essere Embercliffe Adesso facciamo Lo spoilerino Vai Fallo Nella prossima puntata Di Amarcard Non siamo mai andati Così indietro Questo è veramente Un tuffo Un tuffo nel passato Che più nel passato Non si può Siamo Siamo In una Più passato Di così Più passato Di così Andiamo a giocare A bristola A tombola Noi come sempre Vi ringraziamo Dei continui feedback Che ci state dando Siamo molto contenti Che la rubrica Continua a piacere Sì E Che dire La solita manfrina Da youtuber Iscrivetevi al canale Mettete un like Soprattutto i vostri commenti Perché per noi Sono molto importanti Ci danno Modo di aggiustare I contenuti Per le puntate future E che dire Buona visione Al prossimo video Ci vediamo Alla prossima puntata di Alla prossima puntata di